300 eventi per celebrare al meglio la prima giornata nazionale del made in italy che si terrà il 15 di aprile nel giorno della nascita di leonardo il genio italico che coniugò al meglio arte cultura storia coscienza tecnologia innovazione che in qualche misura identifica quello che è l'eccellenza dell'impresa del prodotto italiano così come percepita dal consumatore globale che sempre più l'apprezza e infatti l'export italiano è notevolmente cresciuto in questi anni superando pochi mesi fa persino la Corea del Sud come quinto grande paese esportatore e per questo per noi il valore che vogliamo attribuire a questa giornata è quella di esaltare l'eccellenza del prodotto dell'impresa italiana e nel contempo identificare e valorizzare l'identità l'innovazione l'istruzione e l'internazionalizzazione le quattro i che fanno forte il prodotto e l'impresa italiana nel mondo